Leao questa sera contro il Real Madrid partirà titolare. E questo è l'annuncio che ha fatto Fonseca dopo le numerose panchine che Fonseca ha proprio fatto fare a Leao. Sembra veramente che Leao sia stato preso un po' di mira dall'allenatore che ha deciso in queste ultime partite di campionato di non far giocare per niente Leao o di farlo subentrare nel corso del secondo tempo. E possiamo dire che queste decisioni da parte dell'allenatore hanno un po' diviso i tifosi del Milan. Ovviamente ci sono coloro che appoggiano Fonseca, che pensano che abbia fatto bene a tenere un po' in panchina Leao per dargli un po' una scossa, per stimolarlo a migliorarsi e a fare meglio. Mentre invece altri tifosi sostengono che Leao comunque debba giocare sempre perché magari nel Milan attuale non c'è un sostituto di Leao o comunque un giocatore più forte di lui in questo momento per quel ruolo ricoperto appunto da Leao. E quindi anche se è vero che è un giocatore discontinuo, magari però con una giocata può farti vincere la partita, magari con un assist e il problema di Leao di quest'anno è che veramente sta segnando pochissimo. Ha fatto diversi assist, però ovviamente da un giocatore così ci si aspetta veramente tanto e soprattutto i tifosi del Milan sperano di vedere un giocatore continuo, un giocatore che ha delle grandissime qualità e che quindi è giusto che lui debba metterle in mostra perché può essere veramente un giocatore devastante. Però vorrei chiederti la tua opinione innanzitutto della gestione di Fonseca per quanto riguarda appunto Leao, che cosa ne pensi delle decisioni che ha preso l'allenatore in merito a questo giocatore e secondo te come giocherà questa sera Leao contro il Real Madrid? Che prestazione ti aspetti di vedere? Scrivi nei commenti le tue considerazioni, le tue opinioni, ti raccomando. Ti invito anche ad iscriverti al mio canale YouTube perché solo così potrai rimanere aggiornatissimo sui prossimi video in uscita. E noi a questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo contenuto. Ciao! Ciao!